Si chiama Pankai Basin, ha 37 anni di età, è un uomo il quale pensate che fece fuori un altro uomo di 65 anni che era lui totalmente sconosciuto. L'uomo in pratica lo avrebbe ucciso perché credeva che si trattasse di una creatura mitologica. Si chiamava, colui che ha perso la vita, Brad Jackson. Pensate che costruire ha ricevuto più di 50 accoltellate in Virginia, negli Stati Uniti d'America. Così, dopo il processo penale che si è aperto nei confronti di Pankai Basin, è giunto, quindi è arrivato in un centro medico a livello psichiatrico. E pensate che di recente questo uomo è tornato in libertà. E anche nei social network, ovviamente. Il caso è esploso qualche anno fa di tempo, era precisamente l'anno 2018, poi è stato dichiarato non colpevole, che di fatto in quanto era stato dimostrato che aveva problemi a livello psichiatrico e psicologico, era un pazzo, diciamo così, per farlo in breve. Credeva infatti che l'uomo che ha colterato era una creatura mitologica, però adesso l'uomo torna in libertà e molti stanno parlando di costui reputando il fatto che torna in libertà come un atto scelerato, un atto assurdo, un atto non corretto. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi udente di YouTube. Si sa soltanto che il povero Brady Jackson non c'è più e che è passato idealmente parlando a miglior vita. Ciao dal vostro narratore italiano di YouTube Italia.